Oggi qui a Montecitorio in discussione il testo relativo alle prossime elezioni amministrative ed europee. Il 6 e 7 giugno prossimo è previsto infatti l'Election Day. Da più parti si chiede anche l'accorpamento però del prossimo referendum. Vicepresidente Dussin, allora qual è la posizione del Carroccio di fronte a questa ipotesi? Insomma, un'unica giornata elettorale, amministrative, europee e referendum. La maggioranza, quindi anche la Lega Nord, è perfettamente d'accordo. Difatti lo approveremo probabilmente solo con i nostri voti. Adesso vediamo come va a finire. L'Election Day, quindi mettere assieme le amministrative che riguardano le votazioni per i sindaci e le province assieme alle consultazioni europee. Questo è già un atto di estrema semplificazione e risparmio. C'è chi strumentalmente insiste per accorpare anche il referendum in materia elettorale. Allora, intanto ricordiamo che i referendum sono sempre stati votati singolarmente anche per dar modo di avere quelle quattro settimane di campagna elettorale e informare i cittadini su cosa sono chiamati a votare. Il referendum nasconde un processo che è iniziato ancora nel 1996 quando in questa Repubblica si doveva ancora costruire il bipolarismo e già si cercava di mettere in essere un passaggio ulteriore che andava verso il bipartitismo. Nel 1996 la Camera non approvò questo tentativo, dopo hanno provato con altri referendum evitando di andare nei tecnicismi che sono difficili da capire per chi ci ascolta da casa comunque volevano togliere quella piccola parte di proporzionale che serviva ai partiti tra virgolette piccoli per avere qualche eletto se andavano da soli e non all'interno o con alleanze di partiti di maggior consistenza. Sono falliti l'altra volta questi tentativi e adesso li ripropongono ma visto che questa è una chiamata al voto dalle portate storiche perché, ripeto, si andrebbe verso il bipartitismo perché il premio di maggioranza per governare da soli verrebbe attribuito non alla coalizione come adesso ma alla lista che prende un voto di più delle altre. Allora là è giusto che i cittadini siano consapevoli di che cosa si tratta e necessita di una tornata a se stante un referendum come questo qua.